Buongiorno a tutti, cari amici, utenti e iscritti al canale YouTube, i signori buonasera. Oggi parliamo di un avvenimento che c'è stato tra ieri e l'altro ieri, dove è impazzito il web su una cosa che secondo me non andava assolutamente rivelata in questo modo, non andava assolutamente spoilerata, chiaramente nel titolo già lo scrivo per avvertimento, per chi ancora non sa di ciò che sto parlando ed è riferito ovviamente al terzo film di Spider-Man chiuda immediatamente il video, perché non è giusto, nemmeno nei confronti di chi ancora non sa. Quei pochi fortunati voglio salvarli, ecco. Oggi parlo dei leak che sono usciti e devo fare una considerazione. Allora, i leak di cui si parla sono una foto in cui si ritraggono i tre Spider-Man insieme, Tom Holland insieme a Tobey Maguire e Andrew Garfield con i loro rispettivi costumi dei Spider-Man che hanno fatto. Non mi sembra fake la foto perché c'è Tobey Maguire che sembra un po' più grandicello rispetto a quando fece Spider-Man anni fa e anche Andrew Garfield mi sembra un po' cambiato in viso, quindi mi sembra vera la foto. E la seconda foto è una foto che fa riferimento anche a una frase che disse Tom Holland del film, ovvero quando lui descrisse in una intervista che era... hanno fatto questa scena in cui sono seduti al tavolo insieme a Happy Hogan e sua zia e c'è un altro personaggio molto molto figo nel tavolo. In questa foto si ritrae appunto Mad Marduk interpretato dallo stesso attore che ha fatto Daredevil nella serie Netflix. Si parlava, si vociferava della sua presenza e appunto a quanto pare sarà nel film una cosa abbastanza ufficiale. Ok, forse ce lo potevamo aspettare ma è anche vero che doveva essere una sorpresa per i fan che andranno a vedere questo film. Quindi questa cosa mi ha fatto parecchio incazzare perché comunque prima di tutto tutta la curiosità che avevo su questo film si è abbassata tantissimo, anzi mi desta preoccupazione perché comunque c'è tanta carne al fuoco attorno a questo film e non so come andranno a gestire tutti i personaggi che ci saranno all'interno del film, quindi vedremo perché credo sia difficile dare spazio a tutti quanti. Comunque, oltre a questo alcuni appunto hanno spoilerato la prima foto, diciamo che ce lo potevamo aspettare ecco dalla presenza degli altri due Spider-Man, era una cosa scontata, ma quantomeno io volevo provare quel senso di sorpresa e di curiosità. Anche per chi lo sa, dei miei amici, tanti mi dicevano ma lo sai che forse ci saranno i tre Spider-Man, bla bla eccetera eccetera. Io dicevo sempre finché non lo vedo il film per me non ci saranno, no? Come per dire io voglio provare quel senso di sorpresa, così piango davanti al film, ovviamente in senso metaforico, piango nel momento in cui li vedrò, perché voglio provare quell'emozione che si prova a vedere certi film. E invece questa emozione so per certo che non la proverò davanti a questo film, perché hanno spoilerato così tante cose che non so cosa aspettarmi, non so cosa aspettarmi e allo stesso tempo so tutto praticamente del film e quindi questa cosa mi disturba e mi dispiace. La responsabilità va soprattutto a quei giornalisti che hanno fatto articoli su queste foto leak, vergognosi ovviamente perché sono foto clickbait per far leggere più lettori l'articolo ed è una cosa che veramente è deplorevole, non è fare giornalismo, è semplicemente cercare di ottenere più views. E la seconda cosa che mi ha disturbato parecchio è che anche contact creator di un certo rilievo, non dico in Italia, dico all'estero, hanno spoilerato queste foto e subito dopo le hanno cancellate perché pensavano fosse fake e non si sono presi alcuna responsabilità su ciò che hanno fatto, cioè se ne sono lavati le mani. Una cosa che mi ha lasciato veramente deluso, davvero tanto tanto tanto, perché comunque noi che facciamo questi video, noi che facciamo questi prodotti, dovremmo assurmerci sempre la responsabilità di ciò che diciamo, non soltanto nel fare le recensioni, ma anche sul spoilerare certe cose. Tant'è vero che noi, io e Ale, ad esempio, avvertiamo sempre chi guarda i nostri video che se ci sono degli spoiler lo faremo, faremo degli spoiler. E quindi per chi non ha visto il film o la serie tv, chiuda il video e vada a vedere direttamente il film e poi torna a vedere il video se ne ha voglia. Lo diciamo sempre e lo dirò anche nella recensione di Eterni, che state tranquilli uscirà, però siccome è uscita questa cosa, io volevo parlarne e volevo soltanto semplicemente dire che sono parecchio deluso non solo dai classici giornalisti, ma anche da content creator esteri, non voglio fare nomi, che appunto hanno spoilerato, alcuni in maniera ingenua, altri in maniera subdola, questa cosa su Spider-Man. Poi, ragazzi, ci sono anche quei bastardi che parlano sempre male della Marvel e poi spoilerano le foto. Quelli proprio sono una categoria proprio da farla estinguere completamente, però vabbè, su quelli esistono e esisteranno sempre. Però, quantomeno, le persone che ci lavorano su queste cose, che stiano attenti a fare certe cose, perché comunque rovinate tutto quell'hype e quella curiosità che c'è attorno a questo film. Tutto qua. Questo è il video. Ditemi che cosa ne pensate. Ovviamente, ragazzi, anche nei commenti, cerchiamo di non stare lì troppo a spoilerare, perché non è giusto. Magari, ecco, se volete dire qualcosa nello specifico sulla foto o sulle due foto che avete visto, magari mettete spoiler e poi magari andate un po' a capo, così almeno per chi andrà a cliccare questo video e andrà a vedere i commenti, non si spoilerà praticamente nulla. Io non volevo spoilerarmi queste cose, ma inevitabilmente mi è comparso sulla home page un video in cui si parlava di queste cose e il primo frame era proprio una delle due foto leak che mi sono beccato ed è uno spoiler grosso come una casa. Io all'interno di questo video non metterò nessuna foto, così almeno non voglio attirare più di tanti utenti, perché magari alcuni, ripeto, si sono salvati da questo leak miracolosamente e non voglio spoilerare nulla. Ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale YouTube. Ci vediamo presto con la recensione di Eternals. Ciao ragazzi!